Ecco come lucidare i collettori della tua moto Allora primo step ci servirà una spugna e derri azzurro Dopo aver versato una piccola quantità di prodotto cominciamo subito a strofinare tutta la superficie Ed ecco che i nostri collettori sono puliti e lucidati Se non siete ancora iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video